Amici, eccole qui inquadrate, lo sparutissimo, coraggiosissima Saitta Sabbi diagonale, Piscopo Mazzone al centro, Casoli Zanuto di banda Cesarini libero, i tecnici, Guamanuel Cichello e Giancarlo D'Amico per Molfetta Roberto Serniotti e Simone Roscini per Trento Ricordiamo il confronto diretto dai due piemontesi Agli amici al lavoro con noi, tecnici in cabina di regia Nicola, Ieva, alle camere Franco Chieppa, Sebastiano, Ursi, Raffaele Raffaele, pezza per la vostra indifferenza e riguardo uno stricione polemico dopo il bel gesto anche dei confronti forse della formazione molpettese da parte dei tifosi di Molpettese Sole ancora al servizio, si riprende, non ha più time out Cichello 17-21, Piscopo Murato Eh sì, senza problemi Eh perché è anche tornato, vedremo se Molpett tornerà anche in questo secondo set un po' più compatto rispetto a un primo set dove sicuramente Molpett ha giocato benino non bene, soprattutto nella prima metà, poi dopo è emersa l'esperienza, la tecnica e la forza dei ragazzi di Serniotti che hanno portato a casa il primo set questo è il primo punto, già ricordato, della ripresa del tipo dei ragazzi dei pedelissimi e c'è l'invasione chiamata Donald Sunshow che ancora se la prende polemicamente col segno Nes al servizio per Rex Privia Un servizio che sembrava un servizietto invece mette in difficoltà e poi come fosse acqua fresca Lanza mette giù un pallone difficilissimo Ancora il buon Bruno Zanuto al servizio Facile questa volta per Ferreira, chiamato ancora lui e abbatte Cesarini più che difendere Molto murare, perciò spesso quando riesce bene trovi il muro a uno o non lo trovi per niente Ancora Fornesse Colaci ai tre metri su Sokolov Sokolov non passa, la palla si insacca Suscio a più due, terzo set Colaci, buona ricezione per Suscio Primo tempo che porta a casa l'Itasviat, palla Bisognerà vedere se l'ex Privia saprà fare questo Brutta ricezione di difficile palla Pallonetto che si legge a 800 km Difende, palla al limite Attacco, questo è un attacco Piscopo, questa palla si attacca di prima Come finirà questo Altagianflot di Saita, Colaci, facile per Suscio Eh no, peccato Cesarini poteva difendere 25-23 Il terzo set dopo il 25-19 Il 25-17 degli altri due L'Itasviat